Un vero rifacimento dell'Antico Testamento è iniziato dopo il periodo dell'esilio babilonese, quindi a partire dal VI-V secolo a.C., sostanzialmente da quando il rinnovato sacerdozio di Gerusalemme ha preso in mano il controllo di questo testo e, diciamo, proprio anche del rapporto con quello che conosciamo con il nome Yahweh, ha esautorato, anche perché non c'era più e non era possibile ripristinarlo in quel momento, ogni forma di potere laico e di lì è cominciata una rivisitazione in chiave spiritualista e in chiave che potremmo definire monolatrica prima e monoteista poi, appunto, degli antichi testi che invece nulla avevano di monoteistico perché gli antichi testi si riferivano al racconto del rapporto tra un popolo, cioè tra quella gente e il suo governatore. Posso solo dire che, come scrive il professor Alexander Ruffe della Hebrew University di Gerusalemme, quindi uno dei massimi biblisti che insegnano nelle università israeliane, lui dice che di certo la Bibbia che noi abbiamo oggi non è quella scritta in origine e quindi i rifacimenti sono stati continui perché ogni volta che la riscrivevano la cambiava.